Cioè se la tua narrazione è in prima persona ed è realistica e rappresenta quello che tu sei in quel momento lì, prima o dopo verrà riconosciuto e quindi perché è sincera, perché prima o poi qualcuno ci passa nella tua stessa, rientra nelle tue scarpe, non so come dire, perché è una cosa naturale. Se riesci a entrare in quella roba lì e mantenerti te stesso pur evolvendoti, perché anche tu anagraficamente sei diverso, non pensi più le stesse cose che pensavi 30 anni fa, devi seguire le tue evoluzioni, però rimanendo sincero.